Ovviamente non fecero nessuna di quelle cose orribili e piuttosto ripulirono e riposero ogni cosa sana e salva, mentre lo Hobbit girava e rigirava nella cucina per vedere cosa stessero facendo. Poi tornarono indietro e trovarono Thorin che fumava la pipa coi piedi sul parafuoco. Faceva anelli di fumo assolutamente enormi, che andavano ovunque egli dicesse loro di andare, su per la cappa del camino, dietro l'orologio, sopra la mensola o sotto la tavola o attorno al soffitto. Dovunque l'anello di fumo andasse non era mai abbastanza veloce da sfuggire a Gandalf. Pop! Dalla sua corta pipa di terracotta spediva un anello di fumo più piccolo esattamente attraverso ciascuno di quelli di Thorin. Poi l'anello di fumo di Gandalf diventava verde e ritornava indietro. a librarsi sopra la testa dello stregone. Ce n'era già una nuvola attorno a lui e la fioca luce gli dava un aspetto strano e portentoso. Bilbo rimase immobile a guardare. Gli piacevano molto gli anelli di fumo. E poi arrossì, pensando a quanto si fosse sentito fiero di quelli che il mattino prima aveva fatto salire con il vento sopra la collina. «E adesso un po' di musica», disse Thorin. «Tirate fuori gli strumenti». Chili e Fili si precipitarono a prendere le borse e tornarono portando dei piccoli violini. Dall'interno dei loro mantelli, d'ori, nori e ori, cavarono dei flauti. Bombur andò a prendere un tamburo nell'ingresso. Anche Bifur e Bombur uscirono e tornarono con i clarinetti che avevano lasciato insieme ai bastoni da passeggio. Dualin e Balin dissero «Scusate, abbiamo lasciato i nostri strumenti fuori dalla porta». «Già che ci siete, portate dentro anche il mio», disse Thorin. Tornarono con delle viole alte quanto loro e con l'arpa di Thorin, avvolta in un panno verde. Era una bella arpa d'oro. E quando Thorin la sfiorò, si sprigionò all'istante una musica così inattesa e dolce che Bilbo dimenticò qualsiasi altra cosa e fu trascinato in terre oscure, sotto lune sconosciute, lontano al di là dell'acqua e lontanissimo dalla sua casetta sotto la collina. Il buio entrava nella stanza attraverso la finestrella. La luce della fiamma vacillava «era aprile» e loro continuavano a suonare, con l'ombra della barba di Gandalf che si muoveva ritmicamente sul muro. Il buio invase la stanza. Il fuoco si spense. Le ombre si dissiparono e loro continuarono a suonare. Ed un tratto, mentre suonavano, presero a cantare, prima uno, poi un altro, poi tutti insieme, un roco canto di nani che sembrava salire dai recessi delle loro antiche case. E questo è un frammento della loro canzone, ammesso che possa somigliare alla loro canzone, essendo privo della loro musica. Lontano su, nemmiosi monti gelati, in antri oscuri, e desolati, Partir dobbiamo L'alba scordiamo Per ritrovare Gli ori incantati Mentre cantavano, l'Hobbit sentì frenere intorno a lui l'amore per le belle cose fatte a mano con l'abilità e magia, un amore fiero e geloso, l'anelito che albergava nel cuore dei nani. Allora qualcosa che gli veniva dai tuc si ridestò in lui e desiderò di andare a vedere le grandi montagne, udire i pini e le cascate, esplorare le grotte e impugnare la spada invece che il bastone da passeggio. Guardò fuori dalla finestra. Le stelle erano apparse in cielo, buio sopra gli alberi. Pensò ai gioielli dei nani, che scintillavano in caverne buie, e all'improvviso nel bosco, al di là dell'acqua, guizzò una fiamma. Probabilmente qualcuno che accendeva legna per fare il fuoco, e Bilbo immaginò i draghi, predatori che si insediassero sulla quieta collina, appiccicassero il fuoco dappertutto. Rabbrividì. E in men che non si dica, tornò a essere il posato vecchio signor Baggins di casa Baggins, vicolo cieco sotto colle. Si alzò tremando, aveva meno di una mezza idea di andare a prendere una lampada, e più di una mezza idea di far solo finta, andando invece a nascondersi in cantina, dietro ai barili di birra, per non tornare finché in tutti i nani non se ne fossero andati. A un tratto si rese conto che la musica e il canto si erano interrotti, e che tutti lo guardavano con occhi che brillavano nel buio. Dove stai andando? disse Thorin. Dal tono sembrava che avesse intuito entrambe le mezze idee del signor Baggins. Che ne dite di un po' di luce? disse Bilbo in tono di scusa. L'oscurità ci piace, dissero tutti i nani. Oscurità per affari oscuri. Mancano molte ore all'alba. Ma certo, disse Bilbo. E si sedette in fretta. Mancò lo sgabbello e si sedette sul parafuoco, urtando con gran fracasso la paletta e l'attizzatoio. «Shh!» disse Gandalf. «E Thorin parli!» E Thorin cominciò così. «Gandalf, nani, signor Baggins, ci siamo riuniti nella casa del nostro amico e compagno cospiratore. Questo eccellentissimo e audace Hobbit. Che i peli dei suoi piedi non cadano mai. Lode al suo vino e alla sua birra.» Qui fece una pausa per prendere fiato e per una educata replica dell'Hobbit. Ma i complimenti erano del tutto spregati. Poiché il povero signor Baggins, che stava torcendo la bocca nel tentativo di protestare per essere stato chiamato audace e, peggio ancora, compagno cospiratore, pur non riuscendo a produrre alcun suono, perché era sconcentrato. Pertanto Thorin continuò. «Ci siamo riuniti per discutere i nostri piani, i modi, i mezzi, le tecniche e i trucchi. Tra poco, prima che spunti l'alba, intraprenderemo il nostro lungo viaggio, un viaggio da cui qualcuno di noi, o forse ognuno di noi, accetto il nostro amico e consigliere, l'ingegnoso stregone Gandalf, potrebbe non fare ritorno. È un momento solenne. Il nostro scopo, non credo di sbagliare, è ben noto a tutti noi. Per lo stimatissimo signor Baggins, è forse uno o due dei nani più giovani. Credo di non sbagliarmi se dico che Kili e Fili, per esempio. L'esatta situazione in cui ci troviamo potrebbe richiedere una spiegazione succinta, ma esaustiva. Quello era lo stile di Thorin. Era un nano importante. Se gli fosse stato permesso, con molta probabilità, sarebbe andato avanti così fino a restare senza fiato, senza dire a nessuno dei presenti nulla che non fosse già noto a tutti. Ma fu bruscamente interrotto. Perché il povero Bilbo non ce la fece più a sopportarlo. Al potrebbe non fare ritorno, aveva cominciato a sentir montare dentro di sé un grido che ben presto esplose come il fischio di una locomotiva che esce da una galleria. I nani balzarono in piedi. Facendo sussultare la tavola, Gandalf fece sprizzare una luce blu dalla punta del suo bastone magico e in quel vivido bagliore si vide il povero piccolo Hobbit inginocchiato sul tappito davanti al focolare, tremante come una gelatina squagliata. Poi cadde riverso sul pavimento e continuò a gridare «Colpito da un fulmine!» senza mai smettere. E questo fu quanto riuscirono a cavargli fuori per un bel po'. Perciò lo presero e lo distesero sul divano del soggiorno con qualcosa da bere vicino e tornarono ai loro affari oscuri. «E' un tipetto impressionabile» disse Gandalf quando si furono nuovamente seduti. «Ah, gli vengono questi strani attacchi buffi!» «Ma è uno dei migliori!» «Ah, uno dei migliori!» «Feroce come un drago si è messo alle strette!» Se avete mai visto un drago messo alle strette vi renderete conto che era solo un'esagerazione poetica. Se riferita a un qualsiasi Hobbit perfino al prozio vecchio Tuk, Ruggitoro, che era così alto per un Hobbit da poter montare un cavallo vero, aveva partecipato alla carica contro le schiere degli orchi di Montegram nella battaglia dei Campi Verdi. E aveva colpito e staccato di netto la testa del loro re Golfimbul con una mazza di legno. La testa era volata in aria per un centinaio di metri per poi cadere in una tana di un coniglio. E in quel modo si era vinta la battaglia e al tempo stesso si era inventato il gioco del golf. Nel frattempo comunque il ben più mite discendente di Ruggitoro stava riprendendosi nel soggiorno. Dopo un po' di tempo e un bicchierino si trascinò nervosamente fino alla porta del salotto e udì Gloin che diceva ma o qualche altro sbuffo del genere. Siete proprio sicuri che faccia al caso nostro? Mi rendo conto che per Gandalf questo hobbit è feroce ma un urlo come quello in un momento di eccitazione basterebbe a svegliare il drago e tutti i suoi parenti e a far uccidere molti di noi. Anzi sembrava più paura che eccitazione. In realtà se non fosse per il segno sulla porta direi che siamo entrati nella casa sbagliata. Appena ho posato lo sguardo su quel tipetto saltellante e sbuffante sullo gerbino mi sono sorti dei dubbi. Sembra più un bottegaio che uno scassinatore. Fu allora che il signor Baggins abbassò la meniglia ed entrò. Il suo ala totucca aveva vinto. All'improvviso si era reso conto che avrebbe volentieri rinunciato a letto e alla prima colazione pur di essere considerato feroce. Tra l'altro sentirsi definito tipetto saltellante sullo zerbino l'aveva già fatto diventare quasi feroce. Quasi. In seguito molto in seguito il suo alato Baggins avrebbe rimpianto ciò che fece a quel punto e egli si sarebbe detto Bilbo sei stato uno stupido te la sei proprio andata a cercare. Ma disse scusatemi anche se non volendo ho ascoltato le vostre parole. Non pretendo di capire di cosa stiate parlando o il vostro riferimento agli scassinatori ma penso di aver motivo di credere questo è quello che lui chiamava darsi un contegno che mi giudichiate un inetto. Vi proverò il contrario. Non ho segni sulla mia porta è stata ridipinta la settimana scorsa e sono assolutamente sicuro che siate entrati nella casa sbagliata. Appena ho visto le vostre buffe facce sulla soglia ho avuto dei dubbi ma ammettiamo pure che questa sia la casa giusta. Ditemi cosa volete che faccia e io farò del mio meglio anche se dovessi andare a piedi da qui fino all'Oriente dell'Oriente e combattere gli espietati draghi sanguinari dell'ultimo deserto. Una volta un mio pro 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 zio Ruggitoro Tuck Sì sì ma è stato molto tempo fa disse Gloin Io parlavo di te e ti assicuro che su questa porta c'è un segno quello è comunemente usato nel mestiere o quantomeno usato fino a qualche tempo fa. Scassinatore cerca buon lavoro pieno di emozioni e con ragionevole ricompense. Ecco come lo si legge di solito se preferisci puoi dire esperto calciatore di tesori invece di scassinatore. Qualcuno lo fa per noi è lo stesso. Gandalf ci ha detto che da queste parti c'era una persona del genere che voleva subito un lavoro e aveva organizzato un incontro qui per questo mercoledì all'ora del tè. Certo che c'è un segno disse Gandalf l'ho fatto io stesso per ottime ragioni. Mi avevate chiesto di trovare un quattordicesimo uomo per la vostra spedizione e io ho scelto il signor Peggins. Se qualcuno si permette di dire che ho scelto l'uomo sbagliato o la casa sbagliata potete restare in tredici e avere tutta la sfortuna che vi pare oppure ritornatevene a estrarre carbone. Rimproverò Gloin con tale ira che il nano si rannicchiò in fondo alla sedia e quando Bilbo tentò di aprir bocca per fare una domanda si voltò e lo fissò severamente aggrottando le sopracciglia ersute finché Bilbo non chiuse di colpo la bocca. Così va bene disse Gandalf smettiamola di litigare io ho scelto il signor Peggins e questo dovrebbe essere più che sufficiente per tutti voi se dico che è uno scassinatore scassinatore è o lo sarà nel momento più opportuno è in gamba più di quanto possiate immaginare e assai più di quanto creda lui stesso mi auguro che possiate tutti sopravvivere per ringraziarmi ancora adesso Bilbo ragazzo mio va a prendere la lampada e facciamo un po' di luce su questa alla luce di una grossa lampada schermata di rosso spiegò sulla tavola una pergamena che somigliava molto ad una mappa questa fu fatta da Tror tuo nonno Thorin disse in risposta alle concitate domande dei nani è una pianta della montagna non penso che ci aiuterà molto disse Thorin ricordo abbastanza bene la montagna e le terre tutte intorno e so dove il bosco tetro e la brughiera arsa dove sono nati i grandi draghi c'è un drago segnato di rosso sulla montagna disse Balin ma sarà facile trovarlo anche senza la mappa semmai vi giungeremo c'è una cosa che non avete notato disse lo stregone ed è la porta segreta vedete quella runa sulla parte occidentale e la mano che indica delle altre rune è il segno di un passaggio alle sale inferiori può darsi che fosse segreta un tempo disse Thorin ma come possiamo sapere se lo sia ancora il vecchio Smaug ha vissuto lì abbastanza a lungo per scoprire tutto quanto che c'è da sapere di quelle caverne può darsi ma non l'avrà usata per anni e anni e perché? perché è troppo piccola la porta è alta un metro e mezzo e ci si può passare per tre alla volta dicono le rune ma Smaug non poteva infilarsi in un'apertura di quelle dimensioni neanche quando era un giovane drago e certo non dopo aver divorato tanti nani e gente di conca a me sembra un'apertura molto grande squitti Bilbo Grazie a tutti